Ma voi altri che avevi visto la figura da Ovi che ha fatto Daily Mellow a Ciao Darwin st'altra sera? E ti che muore a re di dire che ti sei il massimo esperto di quello di st'altro? Perché mi sembra che te l'abbia a cultura generale di una arna? E ti ho visto che te che guardavi il cuo a madre natura? Tanto gli eri inutili perché dentro che il bandone di acqua ti parevi un pevarone coi jeans? Grazie